Amici, sono Emiliano Babilonia. In questi giorni ci stanno chiamando moltissime persone perché vengono sottoposte ad anomale influenze radiopilotate che creano delle sintomologie che prendono 24 ore di attacchi o 48 ore di attacchi per attestare le armi ad energie dirette attraverso la manipolazione in radiofrequenza, fisiologiche in radiofrequenza con attacco pineale. I sintomi su riscaldamento della testa fortissima e del corpo, mal di testa fortissimi e improvvisi, attacchi con diarree improvvise, manipolazioni cerebrali con perdita della capacità di intendere e di volere attraverso cambiamenti di umore con attacchi ad arma, ad energia diretta, radio simulata che ricrea la simulazione delle frequenze, delle influenze ipnotiche, delle influenze cerebrali, delle influenze neurali. Queste influenze radiopilotate servono per attestare tecnologie attraverso le manipolazioni ad arma, ad energia diretta, sulla popolazione italiana. Vengono sottoposte queste persone ad attacchi fisici e psicologici con blocchi a manipolazione indotta cerebrale che risimulano tutte le patologie delle influenze. E dopo 24 ore e dopo 48 ore sparisce tutto, ogni sintomo, ogni patologia e ogni ricordo della patologia indotta attraverso le radiofrequenze. Ditola a tutti amici, vogliono manipolare la popolazione italiana con queste influenze radiopilotate per far comprare miliardi di euro di farmaci. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Ascoltate le mie radio web e se avete attacchi, manipolazioni o avete persone che vengono sottoposte a queste torture disumane con armi ad energia diretta e satellitari ad onde convogliate, contattatemi su vittime del controllo neurale chiocciola gmail.com Mentre sto facendo questo video, i manipolatori e i torturatori mi stanno parlando in comunicazione telepatica e neural VoIP e manipolano i miei telefoni con il sistema Tetra e mi attaccano con le frequenze ad onde convogliate che vengono riamplificate attraverso l'elettroencefalografo transcranico che viene scordinato attraverso le frequenze dei campi elettromagnetici dei 50 Hz della corrente alternata dei luoghi dove io staziono e amplificano le frequenze appuntamento a particelle ionizzanti o a particelle di luce immesse all'interno del mio corpo, all'interno dei miei occhi, all'interno dei miei condotti uditivi attraverso i lampioni e la luce che mi circonda. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babiloni